Arrivo, devo dire un po' la verità, il venerdì, il venerdì sera, che sono un po' stanchetto, anche perché ormai, devo dire, l'età media del nostro gruppo di lavoro è 79 anni. No, ci svegliamo tutti alle 6 del mattino, no? Alle 6 siamo così. Cosa facciamo? Una tristezza colossale. Quindi noi veniamo a lavorare molto presto, no? Chi viene in Vespa, c'è la forza di venire in Vespa, io ho troppa paura, no? Ma c'è gente che viene in Vespa, no? E vengono in Vespa, in motorino, noi invece veniamo con un furgone che ci vengono a prendere, perché io non ho neanche guidare. E che cosa succede? Veniamo sempre... Ieri mattina, era giovedì, alle 8.48 eravamo in macchina e abbiamo visto che stavano riparando delle buche. all'incrocio tra via Giuseppe Ferrari, angolo via Farini. E allora io ho detto a Francesco Freiri, dico, presto Franci che sta davanti, fai un video. È vero Franci? Sì! Eh? Sì! Ok. Ho fatto il video. Ce lo fai vedere Franci? Sì! Grazie! Prego! Ecco, eccolo lì, eccolo lì. Vedete le buche? Guardate i signori che le stavano riparando, vedete? C'ha paura alla cariola, ma ha paura perché ha visto la Vespa, dice che cazzo faccio? Eh no, vado. Ah, eccomi qua. Ok. Buttano giù. Vedete? E loro riparano la buca. Ora è 8.48. Grazie Franci, 8.48. Allora, dobbiamo dire, bravo Sala, bravo Sala perché la settimana scorsa avevamo parlato delle buche a Milano e lui le ha riparate. Poi naturalmente da lì in poi ne abbiamo trovate delle altre, ma va bene, però lui alle 8.48 del mattino faceva riparare le buche. Certo, uno può dire, ma cazzo alle 8.48 c'è gente che va a lavorare, si portano i bambini a scuola, c'è un traffico della Madonna, perché non le ripari dalle 21 di sera alle 5 del mattino? E tu mi dirai, e poi chi cazzo lo vede che lo fa, no? Dice, che la sta riparando, no? Comunque, martedì Sala ha spiegato il motivo delle buche in una diretta Instagram, vediamocene un pezzettino per favore, me lo fai vedere un pezzettino? Ora, in funzione di quello, della problematica che è successa, quest'anno cercheremo di incrementare, però guardate, qui veramente non è una questione di volontà, è una questione poi di fare quadrare i bilanci, questo vale per una famiglia, per un'impresa, anche per il Comune di Milano. Eh sì, bisogna far quadrare i bilanci, è giusto, quindi non ci sono abbastanza denari per tenere in buono stato le strade di Milano. Ma, per l'amor di Dio, se ha un problema di budget io lo capisco. Poi però, sul sito ufficiale del Comune di Milano, leggo che, crescono gli introiti della tassa di soggiorno dai 55 milioni previsti per il 2023 ai 70 milioni nel 2024. Tra l'altro, prima che introducessero la tassa di soggiorno, a Milano le buche? Non c'era. A Milano le buche? Non c'era. Nel 2012 hanno introdotto la tassa di soggiorno e adesso apriamo le buche. Faranno mica le buche con la tassa di soggiorno? Ma, tra l'altro, i soldi li prendono anche dai pedaggi per entrare in centro, nell'area C e nell'area B di Milano. Più hanno soldi e più fanno buche. Eppure, Milano, cazzo se la tira da Londra, da Parigi, da Berlino, si atteggia da capitale glamour. Però è piena di buche. È come se io mi mettessi lo smoking con le mutande e le calze piene di buche e un po' sporche di merda. Cioè, no? Cioè, prima pulisco le mutande, le rattoppo e anche le calze, poi eventualmente faccio il nodo al papillon. È vero o no?